Si può dire che certamente dal punto di vista delle prestazioni, a parte qualche gara o spezzone di gara, un paio in realtà non fatte bene, penso che si possa dire che la squadra abbia sempre fatto bene, quindi in questo senso siamo contenti delle prestazioni. Ovviamente non dei risultati, la classifica certamente non è bella, ne siamo consapevoli di questi, quindi certamente siamo anche altrettanto consapevoli appunto di dover far punti. Abbiamo sciuppato tantissime occasioni da gol, veramente tante, però è altrettanto vero che loro avevano più rabbia di noi, in questo senso ci hanno aggredito con una ferocia che noi non avevamo, quindi questo è certamente quello che è mancato, e mi dispiace perché è una cosa che certamente a noi non deve mancare mai, è ovvio che la giornata di domenica è stata una giornata che fino a un paio d'ore prima della partita non sapevamo se giocare o meno, è stata una domenica difficile, però non si può non ammettere che non abbiamo fatto una buona gara, che abbiamo fatto degli errori, che siamo stati anche un po' leggeri in certe scelte e quindi dobbiamo abbassare la testa certamente e fare quello che dobbiamo fare e che sappiamo fare. Grazie.